che è nel vivo della festa per la rielezione della sindaca con Luca Cali. Vai qui! Sì, Pietro! A scendere il mio canto e l'entusiasmo tanta è la gioia di questa sera. Dunque, ormai matematicamente lei è il sindaco di Pizzo, quindi i cittadini hanno scelto la continuità con il passato. Una riconferma importante, ci aspettavamo di vincere ma non credavamo con questa differenza. Abbiamo pure doppiato la seconda lista, quella dell'onorevole Borrello, una grande conferma per una squadra che evidentemente ha dimostrato di saper fare bene. Cinque anni in cui abbiamo invertito la rotta della nostra città, i cittadini lo hanno riconosciuto, una squadra che è migliorata coinvolgendo altre persone, quindi un lavoro importante che ci aspetta, tanta della soddisfazione sia per la fiducia ricevuta da così tante persone, sia per il gruppo di lavoro che si è creato, davvero tantissima partecipazione, tanta condivisione e una bellissima squadra, una bellissima lista. Futura! 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 E' stata perché cinque anni fa aveva ottenuto il 56% delle preferenze, quest'anno ha aumentato questi consensi, siamo passati a oltre il 60% delle preferenze. Sì, siamo aumentati, siamo arrivati al 61% attualmente dai dati, ormai mancano davvero gli ultimissimi dati, siamo al 61%, quindi già cinque anni fa il 56% era stato un grande successo, questo è un successo ancora più importante, soprattutto se si considera che in genere chi amministra è più facile che perda un po' di consenso e non che ne guadagni, in questo caso ne abbiamo guadagnato anche tanto sia in termini percentuali che in valori soldi. A chi dedica questa vittoria? La dedico alla mia famiglia innanzitutto, che sicuramente fa tanti sacrifici per il poco tempo che io riesco a dedicarle, ma la dedico a tutta questa bellissima squadra, non solo dei candidati che mi hanno circondato e che chiaramente rappresentano poi il progetto Futura, ma tutti quanti coloro i quali hanno lavorato giovani, giovanissimi e meno giovani in questi mesi riuscendo a creare quell'entusiasmo e quella voglia di partecipare che ha reso il nostro progetto un progetto condiviso dalla grande maggioranza dei Pizzitani, un progetto per il quale ognuno di loro si è sentito partecipe perché così era ed è quella partecipazione che noi vogliamo dare e vorremmo dare nei prossimi 5 anni e tutti i pizzi danni che vorranno essere cittadini attivi di questa comunità. Allora Pietro possiamo iniziare con i festeggiamenti o avete altre domande da studio? No, potete festeggiare, possiamo documentare. Possiamo festeggiare insieme. Allora Pietro possiamo iniziare con i festeggiamenti o iniziare con i festeggiamenti o iniziare con i festeggiamenti. E' stato un po' a limitare quel confronto, a perdere il confronto e il confronto e il confronto e il confronto si è parlato del fatto che l'amministrazione ha lavorato bene e ha doppiato in termini di un confronto. Vino! E' stato un po' a limitare quel confronto, veramente, lo vedete, molto, molto importante. E allora, passiamo qui, torniamo in studio, adesso, un ulteriore giornalmente.